C'è il massimo dialogo, tra l'altro Alessandro Fermi l'ho votato anch'io 5 anni fa e la sua è stata una grandissima presidenza, svolta con la massima autorevolezza e con il quale c'è sempre stato il massimo dialogo. Il due terzi del Consiglio è formato da consiglieri nuovi. I nuovi consiglieri sono entrati in quella che definiamo la nostra grande istituzione lombarda e all'inizio, mi ricordo anch'io, si trovavano e forse si trovano un po' spaesati perché oggi è una giornata particolare, quella dell'insediamento ma spero che potranno capire al più presto cosa vuol dire far parte di un ente così importante che può veramente decidere le sorti del nostro popolo lombardo.